Finisce 2-2 allo stadio San Nicola tra Bari ed FC Südtirol, una formazione altotesina che per 65 minuti di gioco ha sognato il colpaccio nello stadio progettato a forma di astronave dall'architetto Renzo Piano per i mondiali del 90. Poi però un Bari mai domo è riuscito a rimettere il risultato in parità, dividendo la posta in palio. Nella tredicesima giornata di andata di Serie B il Südtirol si presenta in terre di Puglia senza il mister Pierpaolo Bisoli in panchina ma in tribuna per la squalifica di un turno dopo l'espulsione di una settimana fa al Drusos nel match parigiato con il Cagliari. Al suo posto il vicer Leandro Greco e senza nessun complesso di inferiorità ha affrontato la formazione pugliese a viso aperto e per molto ha sognato di portare a casa la sesta vittoria stagionale. Ci hanno provato Capitan Fabian Tait mettendo a segno l'1-0 al primo gol in Serie B e Rafa Odogo con il 2-0. Ma prima di Cesare e poi Salsedo hanno rimesso tutto in parità senza contare il pallo firmato da Rover e la traversa del barese Scheidler. Il match termina alla fine sul 2-2 per la soddisfazione di entrambe le formazioni anche se forse gli altotesini hanno qualcosa da recriminare ancora una volta per non essere stati in grado di chiudere il match prima con Rover e poi con Carretta quando ne avrebbero avuto l'occasione. Ora la Serie B va in pausa per una settimana per gli impegni delle nazionali. Si riparte domenica 27 novembre con il Suitero che allo Stadio Ruso ospita l'Ascoli per la quattordicesima giornata di andata. Calcio d'inizio alle ore 15.